Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento consueto con il telegiornale di RTA. Solto dopo due anni il 67enne Borgotarese che a San Rocco aveva investito con la propria auto una quarantenne. Sentiamo. Era finito a giudizio con l'accusa di aver investito una donna e di non essersi fermato a soccorrerla, ma le accuse di lesioni colpose ed omissione di soccorso che la Procura della Repubblica di Parma gli contestava sono cadute e l'uomo è stato assolto. La vicenda, che risale a luglio di due anni fa, riguarda un 67enne di Borgotaro che, alla guida di un'auto, aveva investito una quarantenne nel quartiere San Rocco. I suoi avvocati hanno dimostrato che la dinamica del sinistro stradale non ha permesso all'automobilista di accorgersi di quanto era accaduto. Così il giudice Paola Ortusi lo ha assolto. Il pubblico ministero, Laila Papotti, aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Ancora a cronaca, aveva legami con il territorio di Berceto e più precisamente con Ghiare, il pensionato che ieri in tarda mattinata ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Collecchio. Si chiamava Giacomo Ponzi. Aveva una casa a Ghiare di Berceto, dove era solito trascorrere il periodo estivo e non solo Giacomo Ponzi, il 78enne di San Pancrazio, che ieri ha perso la vita nell'incidente avvenuto a Collecchio. Dopo aver trascorso proprio a Ghiare alcune ore con la moglie, entrambi in tarda mattinata erano partiti per far ritorno a San Pancrazio. La donna in auto, il marito in sella, la sua vespa. Giunto all'altezza della rotatoria che porta Medesano, il pensionato è finito a terra rovinosamente, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Inutili soccorsi giunti prontamente sul posto. L'uomo è morto sul colpo. Ora sarà la polizia stradale a chiarire la dinamica e le cause del terribile sinistro. Tra le ipotesi, un possibile malore, la perdita del controllo del mezzo, ma anche un urto con un altro veicolo. Da ieri diversi cittadini ci stanno contattando, inviandoci anche una documentazione fotografica per segnalare come la situazione della pista ciclabile del comune di Borgotaro sia visibilmente peggiorata. Oltre il ponte in legno che attraversa il ruscello alle spalle del campo sportivo Bruno Capitelli, chiuso e transennato ormai da tempo, ora per chi frequenta la pista vi è un altro disagio, l'interruzione della stessa sul lato destro del palazzetto dello sport Bruno Raschi. Oltre sottolineano a buche strada franosa e poca pulizia. Chiedono i cittadini che l'amministrazione comunale prenda in considerazione in tempi brevi degli interventi risolutivi. Voltiamo pagina. I comitati pro ospedale di Borgotaro Salviamo le Cicogne e Salviamo l'ospedale di Pavullo hanno sottoscritto un appello congiunto affinché la regione Emilia-Romagna riveda la propria decisione e riapra i punti nascita della montagna Emiliano-Romagnola. È un appello congiunto per la riapertura dei punti nascita di montagna della regione Emilia-Romagna, quello lanciato dai comitati in difesa dei punti nascita dell'Appennino dell'Emilia-Romagna, affinché sia possibile tornare a nascere in montagna, ripristinando così lo stato di diritto ed un servizio essenziale per le madri e i bambini di un territorio caratterizzato da vaste estensioni e difficile percorribilità. I comitati ribadiscono che i tagli lineari basati sul numero dei parti eseguiti nelle singole strutture sia ingiusto, perché non tiene conto proprio delle diversità territoriali. Ritengono inoltre contrari al buonsenso e alla normativa la scelta della regione di chiudere tra i punti nascita sotto i 500 parti tutti e solo quelli di montagna e mantenere aperti invece quelli di pianura. L'Istituto della Deroga contempla esattamente il contrario, ovvero il mantenimento in attività dei punti nascita sotto i 500 parti se gravati da condizioni oro-geografiche difficili. Bisogna superare la brutta pagina delle richieste di deroga acconciate per ricevere risposte negative o che nascondano situazioni amministrative mutate, sottolineano i comitati. Chiediamo che la regione torni sui propri passi, ripristini le condizioni precedenti la chiusura, adegui punti nascita agli standard operativi previsti, ne disponga la riapertura immediata e infine imponga alle direzioni sanitarie la rotazione dell'equipe medica tra gli ospedali al fine di rispettare gli indici di esperienza del personale. Crediamo, terminano, che la sicurezza delle donne e dei bambini sia un bene primario per la comunità e per le amministrazioni preposte alla salvaguardia pubblica. E chiediamo che vada accolta e valorizzata l'esigenza di avere presidi qualificati e in sicurezza nel cuore della montagna per dare risposte adeguate ai parti a termine e alle urgenze. E con il prossimo servizio torniamo a parlare dell'imponente operazione messa in campo domenica per il recupero dell'ordigno bellico rinvenuto nel fiume Taro a Borgo Valditaro. Per tutta la durata delle operazioni è stato presente sul territorio anche il vice prefetto di Parma, Antonio Giaccari. La prefettura che ruolo ha in un'operazione di questo tipo? Quanto è fondamentale il vostro coordinamento? Diciamo che questo dispiegamento, questo dispositivo che è stato messo a punto è il risultato di una serie di riunioni tecnico-operative che si sono svolte in prefettura. La prefettura svolge un ruolo di coordinamento di tutte le componenti del sistema di protezione civile e di ordine pubblico. C'è un dispiegamento imponente sia di forze di polizia, costituito da polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e sia di volontari. Le forze di polizia hanno concorso sia per la chiusura di tutti i cancelli e sia per quei servizi di anticiacallaggio in modo che tutti i 5.000 residenti che sono stati coinvolti nel lasciare le proprie abitazioni lo possano fare con la massima tranquillità sapendo di poter affidare i beni più propri alle forze di polizia che stanno svolgendo un ottimo servizio sia nella fase di evacuazione che nella fase di controllo del territorio. In più a questo dispositivo di ordine pubblico si aggiungono 300 volontari che riguardano in maniera trasversale tutti i settori che vanno dalla logistica all'assistenza sanitaria, al concorso della viabilità, al concorso anche nell'evacuazione assistita della popolazione. Era proprio questo uno dei temi ricorrenti delle ultime settimane ovvero la paura di sciacallaggio nel lasciare le proprie case disabitate con le tapparelle abbassate e tutte le indicazioni che avete fornito attraverso i comunicati. Secondo lei le operazioni di evacuazione sono andate a buon fine? Si ritiene soddisfatto? Io mi ritengo soddisfatto perché devo innanzitutto sottolineare il grande civismo e il senso di responsabilità dei cittadini e dei residenti di Borgotaro. Già nelle prime ore di questa mattinata, intorno alle 5.30-6, mi diceva il maggiore gentile che già molti stavano lasciando le proprie abitazioni per recarsi a chi al mare, a chi fuori, a consentire che le operazioni si svolgano nella massima regolarità. Ricordiamo che sono stati impiegati 50 uomini in più della polizia per permettere il presidio dei nuclei abitativi. C'è un concorso di 50 uomini delle forze di polizia proprio per questi servizi sia di controllo del territorio per questi servizi anti-sciacallaggio che sono fatti anche in Borghese dalle forze di polizia. I cittadini devono sentirsi tranquilli perché lasciano i beni ad un dispositivo di ordine pubblico messo a punto nei minimi termini. Ed ora andiamo a Sidolo, una frazione di Bardi dove il signor Francesco denuncia la distruzione da parte dei cinghiali di ben 5 ettari di terreno coltivato. Questi sono altri due campi che il signor Francesco dice che gli hanno rovinato i cinghiali. Parla di circa 5 ettari di terreno coltivato a grano antico, tutto distrutto. Ci troviamo in una frazione di Bardi di nome Sidolo ci troviamo qui con il papà di Alex che si chiama? Francesco Dovanni Ci può dire quando si è accorto di questo danno? Io quando mi sono accorto di questi danni cominciavano a essere qualche sentiero io ho visato gli interessati, ci ho detto venite a farli andare via con dei cani ma non sparate, ma fare un abbattimento, un abbattimento, un abbattimento. Io non ho visto nessuno, poi ce l'ho tornato a dire, non ho visto nessuno. Sono venuti l'altro giorno, invece da venire con i cani, si sono seduti nei prati uno qua, uno là, al mattino, alla sera verso le 4, ci sono stati fino verso sera poi sono andati a casa, ma i cinghiali non vengono di giorno, vengono di notte. Infatti, infatti. E senta, ma lei ha fatto domanda per il risarcimento danni? Sì, ho fatto la domanda ai nostri, quelli che tenono la nostra contabilità, la CE e adesso dovrà venire a vedere un perito per i danni e vedremo cosa dirà. Certo, perché per voi questo raccolto è distrutto? È distrutto, è secondo, vedete bene anche lei. Sì, che poi mi diceva che ha altri campi che sono ridotti allo stesso modo. Sono altri due, tre, quattro campi, forse peggio. Peggio di questo? Eh, non si può neanche farciarlo da prendere sulla palia, è anche quello. Poi prima che sia maturo proprio, anche quel poco c'è in piedi, si rovina tutto. Quindi niente, lei vuole fare un appello a queste persone? Voglio fare un appello che quando vedono dei cinghiali che vanno nei danni, da farli andare via. Prendere provvedimenti? Prendere provvedimenti. Perché io un campo l'ho seminato a ottobre, ci ho detto guarda che ci sono i cinghiali, andavano a caccia, i cinghiali non li hanno trovati, non so com'è, me li hanno girati tutto sotto e sopra, ho dovuto seminarci ancora un'altra ora e quattro ettri in quel campo, però adesso nel frumento non ci sono andati in quello. Quello non è un grano antico come questo? In rosso, sì, sempre un grano antico. 100 euro al quintale viene la semente. 100 euro al quintale? Sì, è una bella spesa. Ad ogni modo guardi, adesso lei ha fatto il suo appello, speriamo che venga accolto dalle autorità competenti e che ben presto vi venga risarcito il danno che avete avuto. Spero, io. Anche quest'anno, in occasione dell'estate, diversi servizi dell'azienda USL nel distretto Valli, Taro e Ceno subiranno variazioni di orario e brevi chiusure. I servizi territoriali dell'azienda USL non vanno in vacanza. Nei mesi estivi, infatti, l'attività continua ad essere regolarmente garantita. Sono in programma solo brevi interruzioni ed alcune variazioni al consueto orario di apertura. lavoro a pieno regime all'ospedale Santa Maria di Borgo, Valli, Taro. Vediamo le variazioni degli orari di apertura e chiusure di alcuni servizi del distretto Valli, Taro e Ceno. CERT, servizio di pendenze patologiche. A Fornovo chiuso domani, il 18, 20, 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto. A Borgotaro, chiuso il 25 luglio. Centro di salute mentale, nuovi orari fino al 21 settembre. A Borgotaro e Fornovo si chiude alle ore 15, rispettivamente il martedì e il mercoledì. Chiuso il sabato fino al 15 settembre. IGENE PUBLICA Borgotaro, chiusura al 13 e il 22 agosto. Fornovo 7 e 14 agosto. Consultorio familiare di Fornovo, chiuso il 26 luglio. Pediatria di comunità, Borgotaro e Fornovo, chiusura dal 13 al 18 agosto. Ufficio invalidi, Borgotaro, chiusura dal 3 al 12 settembre. Medicina sportiva, chiusura dal 23 luglio al 17 agosto. L'associazione culturale Il Cammino Valceno, domenica 10 luglio, organizza il convegno malattie da inquinamento domestico. Ne parlerà Luigi Fecci, medico. L'appuntamento è a Bardi, alle ore 16, presso il Palazzo Maria Luigia. Siamo alla pagina sportiva di oggi, una manifestazione che di anno in anno cresce sempre di più. Stiamo parlando della corsa ciclistica Memorial Porcari, svoltasi domenica a Bedogna e giunta la sua settima edizione. Sta arrivando il numero 36 e può partire l'applauso per Francesco Calì, Aspiratori Otelli, che vince il settimo Memorial Gianfranco Porcari. È stato Francesco Calì, dell'Aspiratori Otelli, ad aggiudicarsi la settima edizione del Memorial Gianfranco Porcari. Una gara riservata a ragazzi nati nel 2002-2003, che anche quest'anno si è rivelata interessante durante il suo sviluppo. Sì, è stata molto interessante, perché è stata una gara combattuta già dall'inizio. Dal primo chilometro all'ultimo i ragazzi non si sono risparmiati, hanno dato tutto quello che avevano e hanno dato vita a una gara molto bella, vincente sotto tutti i punti di vista, specialmente agonistici. L'affiziazione è riuscita in modo perfetto, un lotto di partenti qualificato in preparazione in campagna italiana di domenica prossima con un vincitore proprio di categoria, un gran bel corridore molto forte, Francesco Calì da Modena, che nell'ultimo giro di corsa se ne è andato da solo per arrivare solitario in via Roma. Questa è una gara valida per il giro del Ducato, dalla quale fa parte come altre gare che si sono svolte a Reggio e nel Piacentino ed è valevole anche come prova di campionato provinciale di Parma. Una manifestazione quindi che di anno in anno è cresciuta come importanza, onorando in questo modo la memoria di Gianfranco Porcari, grande appassionato di ciclismo. È stata combattuta fin dall'inizio, hanno onorato il percorso, la memoria di mio padre in questa maniera e ha reso soddisfatti tutti noi della famiglia. Una manifestazione naturalmente che incide notevolmente su quello che riguarda l'immagine di Bedonia dal punto di vista turistico. Certamente, ormai come dicevano prima Michele e Fabrizio di anno in anno crescono, crescono i numeri e soprattutto la qualità dei corridori. Dunque un ringraziamento, penso sottolineato da parte dell'amministrazione alla famiglia Porcari e Tambini sempre per l'impegno che mette l'organizzazione di questa manifestazione e ricordo poi ormai sono due o tre anni che organizziamo anche quest'anno il 22 di luglio qui a Bedonia in centro, un bellissimo percorso per i bimbi più piccini dei 5-6 anni in avanti. Dunque tutto questo fa bene allo sport, il ciclismo si addice pienamente nelle caratteristiche del nostro territorio e come amministrazione penso che sia doveroso a chi con tanto impegno e responsabilità si impegna a fare queste bellissime manifestazioni. Ed ora parliamo di un evento sportivo di beneficenza. Venerdì 13 luglio presso il castello di Varano de Melegari con inizio alle ore 20. Si terrà il secondo trofeo di box, quarto match senior ed elite e secondo match professionisti. Una parte dell'incasso verrà devoluto all'ospedale oncologico pediatrico di Parma. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 6 luglio. Nuvolosità variabile con temporali sparsi nel corso della giornata più probabili sui rilievi. Temperature senza grosse variazioni di rilievo, minima intorno ai 17 gradi, massima intorno ai 31. 20 deboli variabili a regime di brezza con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Vediamo insieme la programmazione serale di RTA 20.35, Driver TV, ore 21.15, protagonisti nello sport, intervista a Eugenio Bianchinotti. Alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30, rivediamoli, del 1993. Ed è tutto per questa sera, grazie come sempre per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento. Torniamo domani, 19.35. Arrivederci.